sembra proprio non avere fine la faida tra beatrice e ludovica valli che tra loro ci sia un rapporto complicato è sotto gli occhi di tutti le due hanno una relazione sporadica e a volte pare non scorrere buon sangue pochi giorni fa ludovica è diventata mamma per la seconda volta del piccolo la scelta del nome aveva fatto discutere poiché beatrice aveva detto in passato di voler chiamare un eventuale figlio maschio proprio edoardo tra l'altro la neo mamma aveva bacchettato la sorella meggiore per aver dato il benvenuto al nipotino scrivendo solo benvenuto otto o mettendo il secondo nome a tal proposito nelle ultime ore beatrice ha criticato in modo velato ludovica per la scelta del nome di suo figlio ieri 20 febbraio l'influencer ha voluto dedicare un po di tempo ai suoi seguaci che l'hanno in vasa di domande riguardo la bambina che dovrebbe nascere il prossimo aprile beatrice è al settimo mese di gravidanza quando le è stato chiesto che nome darà alla piccola ha spiegato che lei e il compagno marco fantini sono ancora indecisi e non riescono a trovare un accordo il compagno della valli vorrebbe un doppio nome perché va di moda adesso al che beatrice ha prontamente replicato appunto per quello non voglio dar molti hanno immediatamente pensato che volesse lanciare una frecciatina alla sorella minore la quale ha scelto per il suo secondo genito proprio un doppio nome inoltre come menzionato prima ludovica ha anche precisato di tenere molto al fatto che il bambino venga chiamato in entrambi insomma i battibecchi tra le due sembrano continuare imperterriti e le due non lasciano fuggire occasione per tirarsi qualche bordata come reagirà ludovica alle ultime dichiarazioni di sua sorella beatrice valli aveva già parlato a verissimo delle difficoltà affrontate durante questa quarta gravidanza chiacchierando con i suoi followers ha spiegato il motivo che l'ha portata a fare recentemente un esame chiamato tracciato